Amici di Kenwood Cooking Blog, oggi prepariamo la torta a due minuti. Gli ingredienti per questa ricetta sono 300 g di farina 00, 300 g di zucchero, 150 g di latte, 60 g di cacao in polvere, 60 ml di olio di semi, una bustina di lievito per dolci, una bustina di vanillina, cioccolato fondente a piacere. Nella ciotola uniamo tutti gli ingredienti, la farina, lo zucchero, il latte, il cacao in polvere, l'olio di semi, le 4 uova intere, infine la bustina di lievito e la vanillina. Montiamo la frusta a filo grosso e lavoriamo tutti gli ingredienti a velocità 4 per 5 minuti. Nel frattempo spezzettiamo il cioccolato e quindi lo uniamo al composto. Mescoliamo ancora per un minuto a velocità 2. Versiamo quindi il composto in una tortiera da 24 cm di diametro e cuociamo in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti. Controllare sempre la cottura della torta con la prova a stecchino. A piacere fate raffreddare la torta e spolverare con zucchero a velo. La torta a due minuti al cioccolato è pronta. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, lasciate un mi piace sotto al video, condividetelo e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti cliccando sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che andremo a pubblicare. Quale altra ricetta vuoi preparare?